Purtroppo è fortuna che l'abbiamo rinviata perché tutti hanno visto come è stato il tempo domenica. È stato rinviato a questo fine settimana, speriamo che il tempo ci sia clemente, ed è diviso in due tronconi, in pratica sabato e domenica. Sabato ci prende insieme all'apertura di tutti i musei e quindi c'è un percorso che inizia all'ora 16 anche a San Filippo, per chi vuole, che si porta verso i luoghi dell'amore di Guido Baldo è Isabel Gonzaga che è stato cantato anche da vari poeti. Finita questo percorso c'è l'apertura delle locande e vari spettacoli che tutti possono quindi usufruire. Quindi avremo il spettacolo di fuoco di Nemesis, avremo la Pandolfaccia, riavremo il Circa Teatro, riavremo gli erabundi musici e anche altre compagnie che animeranno il corso di Due Vie come è stato sabato scorso con tutti i vari spettacoli. Quindi invitiamo tutti a venire sabato per la cena rinvescimentale e godere di questi spettacoli per la famiglia, come sempre. Però c'è anche un pezzo domenica. Faremo finalmente queste tanto attesissime finali dove vedremo anche il gioco nuovo delle uova fresche, dove vedremo il taglio del tronco, dove ci saranno anche la famosa rara e bella corsa all'anello e nel frattempo di nuovo un intrattenimento, una sfilata rinascimentale e poi il tutto si concluderà nel tardo pomeriggio. Come abbiamo detto, infatti invece il sabato sera si rifarà la grande festa, cantine aperte, soliti menù con tante altre cose buone da mangiare e festa fino a notte fonda.